L'esposizione ufficiale del Club Alpino Italiano per CAI 150 è occasione per ripercorrere le tappe salienti che hanno legato il Club Alpino alle montagne italiane e nel mondo. L'esposizione ha un impatto scenografico, pannelli di grande effetto con un teatro per film storici, un'area di osservazione di panorami fotografici, attraverso il cannocchiale di un belvedere alpino e una salita virtuale al Monviso con la possibilità di fotografarsi in vetta.